Bene, buongiorno a tutti, avete passato un buon anno? Un inizio di buon anno, spero. Stavo pensando proprio all'importanza di incontrarci, di stare insieme. Questo periodo in realtà è un periodo dove ci cerca di separarci, in un certo senso. Abbiamo lasciato alle spalle un anno, a dire il vero, molto difficile, o comunque particolare sotto molti aspetti. Ora, oggi è il 3 gennaio 2021, mancano ancora 362 giorni alla fine di questo anno. Cosa accadrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Non lo sappiamo. Stiamo lavorando e studiando l'epistola di Giacomo, un'epistola ad il vero straordinaria, perché è come se l'epistola avesse indossato le scarpe di cuoio per camminare in mezzo a noi e per insegnarci le verità di cui abbiamo bisogno. Ero compattuto se preparare un sermone adatto all'inizio di questo anno, poi ho pensato, ma più adatto della pazienza. Se noi in quest'anno, e non sappiamo cosa accadrà, se noi in quest'anno non abbiamo la pazienza, siamo finiti. E così ritorniamo a questo brano così importante, Giacomo 5, versetti 7 a 11, che voglio invitarvi a leggere, perché questi versi vogliono caratterizzare la vita di ogni vero figlio di Dio. La vita di ogni vero figlio di Dio. E sono contento di alcuni che sono stati già impregnati un po' di questa pazienza, come Benedetta, che ha scritto un articolo. Questa è una grande gioia. E questo vuol dire che il Signore sta operando nella nostra vita e noi nelle piccole cose vediamo come la parola di Dio inizia a incarnarsi dentro di noi. Così vi invito ad alzarvi e leggere insieme a me questi versi straordinari che Giacomo scrive nella sua epistola al capitolo 5, versetti 7 a 11, ma ovviamente ormai siamo alla conclusione, ci focalizzeremo su soltanto alcune parole della fine di questo versetto 11. Siate dunque pazienti nel 2021, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra che sta pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe? E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Ripetete con me. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. La terza volta lo faremo meglio. Perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Amen. Accomodatevi. Bene, siamo alla fine di questo brano, direi, eccezionale che calza bene per il periodo che stiamo vivendo tutti noi. Io penso che tutti noi abbiamo delle problematiche nella vita, è vero? Fate segno con la mano. Avete problemi, sì. Chi più, chi meno, ma abbiamo problemi. Però Giacomo questa mattina ci presenterà l'emblema massimo del problema che secondo me nessun uomo ha mai vissuto come problematiche e fra poco andremo a vedere questo. Abbiamo detto che in questo brano c'è una verità centrale. L'atteggiamento dei veri credenti di fronte alle ingiustizie e prevaricazioni non è la contestazione né tantomeno la rivoluzione ma è la nostra pazienza sorretta dalla certezza che il Signore è vicino e sta per tornare. In questi versi abbiamo detto Giacomo ci dà sette indicazioni. La via della pazienza numero sette sta a indicare sette indicazioni per vivere la pazienza aspettando il ritorno del Signore. Abbiamo già parlato, abbiamo iniziato a vedere, se vi ricordate, all'inizio si paziente alla parousia, cioè al ritorno del Signore si paziente e paziente fino alla parousia terzo, si paziente con le persone fino alla parousia quarto, si paziente nella prova come chi anela la parousia la scorsa volta abbiamo visto si paziente e riceverai la benedizione alla parousia. Siamo arrivati adesso invece alla quinta, alla sesta scusate, alla sesta indicazione per vivere la pazienza aspettando il ritorno di Cristo. Ed è questa l'indicazione, si paziente e realizzerai lo scopo della parousia. Gli esempi che l'Apostolo Giacomo ci dà dei profeti dovrebbero essere sufficienti perché abbiamo visto la scorsa volta che i profeti hanno subito delle atrocità, hanno subito delle persecuzioni hanno subito delle prove molto forti e quindi potevano bastare ma Giacomo aggiunge l'esempio o meglio dire l'emblema della sofferenza l'emblema della sofferenza il più grande uomo d'Oriente e Giacomo dice avete udito parlare e io, Giovanni adesso dice a voi avete udito parlare della costanza di Giobbe? Avete sentito parlare di Giobbe? E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore? questo verso di Giacomo versetto 11 del capitolo 5 mi ha portato perché quando Giacomo dice avete udito parlare della costanza di Giobbe? mi ha portato ad andare a vedere come un po' più da vicino la vita di Giobbe e così ho pensato di lasciare un po' Giacomo lasciarlo è relativo perché io sto prendendo spunto da Giacomo per andare a vedere la vita di Giobbe quindi vediamo insieme le diverse scene che coinvolgono Giobbe la scena di apertura di Giobbe presenta un uomo che prospera ha prosperato in ogni aspetto quest'uomo Giobbe di cui parla Giacomo aveva un'anima sana era di buon animo una brava persona e la valutazione che dà Dio di Giobbe era che e dice Giobbe 1.1 era integro e retto temeva Dio e fuggiva il male questa era la valutazione divina pensate era così sensibile spiritualmente quest'uomo che quando i suoi dieci figli aveva dieci figli facevano festa non so se c'è ancora questa sensibilità oggi di quello che succedeva al tempo di Giobbe o quello che faceva Giobbe ma quando questi figli facevano festa lui li mandava a chiamare e li faceva purificare oggi regna nelle famiglie la maggior parte delle volte il libertinaggio i figli sono attratti dal mondo attratti dal peccato dal male di questo mondo e spesso i genitori lasciano la porta aperta per così dire fargli fare le esperienze Giobbe era così sensibile che lui quando i figli andavano a fare certe feste li faceva purificare questo è qualcosa che mi fa riflettere perché oggi c'è molta indifferenza nei genitori di oggi spesso quando parlo con i genitori quando mai è quasi troppo tardi mi dicono ma io che ci posso fare? no avresti dovuto fare avresti dovuto fare e poi la cosa interessante in questa sensibilità spirituale di Giobbe sacrificava un olocausto per loro per ognuno di loro a quel tempo per purificarsi dal peccato il Signore aveva indicato la strada ed era quello di sacrificare degli animali puri sani e questo era interessante e lo faceva Giobbe aveva diciamo le sue priorità spirituali in ordine non so se oggi ci sono uomini come Giobbe che sono in ordine spiritualmente aveva anche una bella famiglia sette maschi tutte le famiglie vorrebbero avere sette maschi forti robusti per lavorare nella propria azienda e poi aveva anche tre figlie tutti vorrebbero avere tre figlie sette maschi e tre figlie il top della famiglia ci ne mancava uno per fare undici diciamo che facevano la squadra di pallone preciso Giobbe era anche molto ricco la Bibbia indica che aveva settemila pecore uno dice vabbè ma che ricchezza settemila pecore a quel tempo era una ricchezza enorme settemila pecore cinquecento paia di buoi cinquecento asini e molteplici serbi questo lo potete leggere nel capitolo uno di Giobbe Giobbe era sano era una persona integra sana la seconda scena la scena successiva ci trasporta questa era in terra la seconda scena che io ho visto mentre leggevo Giobbe ci trasporta in cielo e in cielo mentre Giobbe vive una vita così sana spiritualmente tutti gli angeli di Dio sono venuti a presentarsi davanti a Dio e tra loro c'era l'angelo caduto Satana Satana dava la caccia a Giobbe Satana un po' come dice Pietro andava dietro Giobbe come un leon ruggente tu sei sano spiritualmente ci penserò io a distruggerti ci penserò io ad abbassare la cresta tua Satana era lì Satana dava la caccia a Giobbe così come la dà a chiunque vuole vivere pienamente piamente se voi siete qui probabilmente avete in cuore di vivere onorando Dio io me lo auguro beh sappiate questo Satana come ha dato la caccia a Giobbe la dà anche a te e a me dice l'Apostolo Paolo del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati e dietro questa persecuzione guarda caso chi c'è il diavolo il Signore disse a Satana in questa scena in cielo da dove vieni Satana rispose al Signore dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa il Signore disse a Satana hai notato il mio servo Giobbe non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro retto tema Dio e fugge il male Satana sapeva naturalmente chi era il grande uomo di cui stava parlando stava parlando Dio e rispose ridacchiando e forse per nulla che Giobbe teme Dio non l'hai forse circondato di un riparo lui la sua casa e tutto quello che possiede tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese ma stendi un po' la tua mano tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia Satana qui espone fate attenzione perché questa mattina concludiamo la pazienza ma per concludere ci vuole molta attenzione Satana qui espone il suo grande argomento e qual è l'argomento di Satana nei confronti degli esseri umani che vogliono seguire Dio lui dice nessuno serve Dio per quello che è Dio ma per quello che può ottenere da Dio tocca tutto quello che hai e vedrai che ti rinnegherai in faccia perché le persone vogliono Dio come come se fosse come dire il genio della lampada che risolve i problemi Satana sa che è così per la maggior parte la gente vuole Dio per ottenere qualcosa non vuole Dio per quello che Dio è secondo Satana i credenti servono Dio per il proprio tornaconto ha ragione beh sotto molti aspetti su tante persone sì se voglio pensare alla cristianità nominale sì quanta gente chiama Dio solo quando è nel bisogno così Dio ha permesso a Satana in questo suo progetto di Satana ha permesso a Satana di prendere tutto salvo Giobbe stesso e così arriviamo alla terza scena per farvi capire cosa perché Giacomo cita la costanza di Giobbe la scena successiva presenta l'escalation dei quattro colpi disintegranti caduti sull'ignaro Giobbe Giobbe non sa nulla di quello che è caduto in cielo subisce i colpi un messaggero arrivò e gli disse senza fiato che i sabbei avevano preso tutti i suoi beni i suoi guoi asini e ucciso i suoi servi sempre al capitolo 1 troverete questo il secondo messaggero il secondo colpo lo informò che il fuoco del cielo aveva consumato tutte le sue pecore e altri servi poi arrivò un altro messaggero con la notizia che i caldei avevano preso tutti i suoi cammelli e avevano giustiziato i suoi servi e mentre ancora scosso da questi colpi come macigni Giobbe arrivò un quarto messaggero con la notizia di una tragedia che trascendeva la tragedia tutti i suoi figli erano morti sette maschi e sette femmine in un solo momento tutti i figli morti periti quando la casa cadde su di loro dieci figli già perderne uno ahimè perché noi genitori vorremmo che loro seppellissero noi i genitori e non noi seppellire i figli è già un dolore di per sé un figlio uno dieci c'è qualcuno in questo mondo che ha subito una perdita così grave così straziante l'oscurità e la nausea si era abbattuta sull'anima di quest'uomo giusto ma incredibilmente Giobbe non fece ciò che Satana aveva detto che avrebbe fatto Satana aveva detto togli tutto quello che ha e vedrai che ti rinfaccerà subito Giobbe non ha vicillato non ha vacillato ha resistito non ha maledetto e non ha rinunciato a Dio ma piuttosto come le scritture registrano e vi leggo quello che dice Giobbe dopo tutto quello che gli accadde e questo è l'esempio che dovremmo prendere tutti in questo 2021 allora Giobbe dopo che ha avuto l'ultimo messaggero che gli ha detto i figli sono morti si alzò si stracciò il mantello si rase il capo si prostrò a terra e adorò dicendo nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore siete capaci siamo capaci di dire parole così quando c'è una grande disgrazia che ci è venuta addosso Giobbe ha dimostrato di non servire Dio per ciò che egli gli ha dato capite la differenza tra servire Dio perché Dio mi dà e servire Dio per quello che è non per quello che mi dà e poi c'è una quarta scena la scena successiva ci porta di nuovo in cielo quando Dio indicò l'integrità di Giobbe Satana rinchiava dicendo leggo al capitolo 2 versetto 4 pelle per pelle dice Satana a Dio l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita ma stenti un po' la tua mano tocca gli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia il Signore disse a Satana ebbene egli è in tuo potere soltanto rispetta la sua vita così andò da Giobbe e lo afflisse Satana con piaghe indicibili dalla pianta dei piedi alla testa e Giobbe andò nella discarica della spazzatura prese un coccio con con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere talmente era così pieno di ulcere una scena orribile e poi non bastava questo arrivò la moglie Dio ci liberi da moglie così e gli disse al marito ancora stai saldo nella tua integrità ma lascia stare Dio e muori poi Giobbe le rispose tu parli da donna insensata abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male in tutto questo dice la Bibbia Giobbe non peccò con le sue labbra l'antico Giobbe era certamente un grande uomo poi arriva alla scena dei suoi tre amici per farvi un zunto di quello che era Giobbe di ricordare la costanza di Giobbe nella sofferenza arrivano questi tre amici hanno iniziato così bene tenendo la bocca chiusa perché dopo che hanno saputo quello che ieri è successo la morte dei figli sono andato a trovarlo come amici sono stati chiusi con la mascherina così questo è un ben segno per non parlare questo è il motivo per cui abbiamo le mascherine loro tengono la bocca chiusa che sarebbe un eloquente silenzio di compassione quando c'è qualcuno che ha subito una disgrazia che gli vai a dire è meglio stare in silenzio gli stai vicino lo conforti con la tua vicinanza e forse in silenzio puoi pregare per lui ma poi hanno parlato ah se fossero stati zitti questi amici sarebbero stati il top degli amici invece poi hanno parlato tre volte ciascuno in ordine di rotazione Elifaz Bildad Zofar hanno parlato tutte e tre all'inizio sono stati gentili con Giobbe mentre parlavano ma quando si accorsero che Giobbe non era d'accordo che la sua disgrazia dipendesse dall'essere un grande peccatore perché Giobbe diceva rifiutava che quello che gli era successo era motivo del suo peccato sono diventati tutti e tre amici brutali brutali nei suoi riguardi alla fine un osservatore a lungo che era lì con questi tre amici si chiama Eliù fu a lungo silenzioso ascoltò tutti questi tre amici che parlavano con Giobbe e che fa questo Eliù dopo che ha finito il suo silenzio rimproverò Giobbe per la sua ipocrisia e poi lo esortò a pentirsi mentre si prepara il palcoscenico affinché Dio rispondesse a Giobbe dalla tempesta nel capitolo 38 di Giobbe volutamente voglio parlare di quello che i critici hanno notato nell'appassionato scambio tra Giobbe e i suoi amici voglio dirvi cosa Giobbe disse ai suoi amici secondo i critici Giobbe dice cose che non si addicono alla frase di Giacomo la costanza di Giobbe i critici dicono eh però Giobbe con i suoi amici in risposta a questi critici bisogna ammettere che è vero che Giobbe ricorre a sfoghi appassionati è vero ad esempio quando maledice il giorno della sua nascita ha subito tutto quel male dice maledetto quel giorno che sono nato penso che qualcuno dalla sua bocca è uscita questa espressione forse qualche volta oppure quando ha dita ai suoi amici e gli dice a tutti questi amici siete tutti dei consolatori molesti è anche vero che Giobbe ha protestato contro Dio è vero dice così Giobbe nel capitolo 7 e capitolo 10 io perciò non terrò chiusa la bocca nell'angoscia del mio spirito io parlerò mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia aggiunge sono io forse il mare o un mostro marino che tu ponga intorno a me una guardia poi aggiunge dice io grido a te ma tu non mi rispondi ti so davanti ma tu non mi consideri ti sei mutato in nemico crudele verso di me mi perseguiti con la potenza della tua mano mi alzi per aria mi fai portare via dal vento e mi annienti nella tempesta infatti lo so tu mi conduci alla morte alla casa di convegno di tutti i viventi è vero è vero Giobbe ha protestato contro Dio ma è anche se Giobbe piangeva e si lamentava si rifiutava di rinunciare a Dio si rifiutava di rinunciare a Dio anche se si è lamentato piuttosto disse al capitolo 19 ma io so che il mio redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne vedrò Dio io lo vedrò a me favorevole lo contempleranno i miei occhi non quelli di un altro il cuore dal desiderio mi si consuma Giobbe rifiutò di rinunciare alla sua integrità come sua moglie lo aveva cercato di fare è sortato a fare era ancora irreprensibile non ha mai smesso di credere in Dio in altre parole nonostante tutte le sue domande nonostante gli strazianti interrogativi che gli appartenevano che gli strappavano il cuore non ha mai perso la fede in Dio capitolo 13 dice Giobbe ecco mi uccida pure o continuerò a sperare già fin d'ora ecco il mio testimone nel cielo il mio garante che poi sarebbe un avvocato è nei luoghi altissimi ma io so che il mio redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere la cosa più grande che ha fatto Giobbe sta nel fatto che nonostante tutto ciò che gli è diciamo gli è stato strappato dal cuore non ha mai perso la fede in Dio la fede di Giobbe non è mai non è una sottomissione cieca non è una sottomissione passiva indiscussa Giobbe ha lottato e si è interrogato e talvolta anche sfidato ma la fiamma della fede non si è mai spenta nel suo cuore mai sì è vero Dio lo ha redarguito tirando fuori una serie di fenomeni naturali che Giobbe non sapeva rispondere nel capitolo 38 come se Dio avesse detto a Giobbe se non puoi capire il mondo fisico che vedi come puoi capire il mondo morale che non puoi vedere e lo fece attraverso degli esempi straordinari nella natura malgrado tutto Giobbe perseverò nella sua sofferenza e nella sua fede che grande incoraggiamento per quest'anno 2021 sapere che Dio non si aspetta una perseveranza stoica eroica in mezzo alle prove ma egli sa che siamo argilla lo sa il Signore sa capisce le nostre lacrime accetta le nostre domande ma esige che riconosciamo la nostra limitatezza noi siamo limitati alcune volte ci mostriamo davanti a Dio come se fossimo alla pari di Dio esige Dio da noi che riconosciamo la nostra limitatezza che riconosciamo che ci sono processi ci sono situazioni che vanno oltre la nostra comprensione non li potremo capire siamo limitati capiamo e dobbiamo sapere che un piano molto più grande di noi si sta muovendo verso il completamento e Dio esige che noi come Giobbe ci aggrappiamo alla fede e alla speranza in Dio accada quel che accada nel 2021 Dio vuole questo da noi che ci aggrappiamo alla fede e alla speranza in Dio la perseveranza di Giobbe è un esempio di vita reale che ci aiuta a perseverare nella vita reale così è il vero finale guardate il versetto di Giacomo letteralmente la fine del Signore sarebbe che il nostro testo traduce come e conoscete la sorte finale che gli servò il Signore Giobbe è raggiunto alla fine delle sue parole con grande amarezza ma alla fine per Giobbe era molto diversa da quella che alcuni si potevano aspettare perché perché Dio ha ricolmato Giobbe di benedizioni soprannaturali dopo tutto quello che ha passato la Bibbia non lascia a metà le cose e vediamo le sue principali benedizioni sono spirituali perché Giobbe raggiunse una profonda umiltà dopo tutta quella sofferenza che ha vissuto dice al capitolo 42 allora Giobbe rispose al Signore e disse io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno non credo che sia il Signore che sta telefonando a Giobbe ma di solito qui i telefoni non prendono però stamattina la prendono vabbè comunque vabbè dai non succede mettiamo di viva voce così sentiamo sia il Signore oppure qualcun altro va benissimo comunque la sonneria è buona sembrava una sonneria celestiale vero vabbè torniamo a Giobbe Giobbe che fa cosa fa ha capito di queste benedizioni spirituali e Giobbe raggiunse questa questa profonda umiltà e dice allora Giobbe risposta al Signore disse io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno e Giobbe si prostrò davanti a Dio in profonda umiltà perché perché vide la grandezza di Dio e la sua pochezza Giobbe vide il suo discorso presuntuoso per quello che era e si pentì infatti dice l'Evangelo dice beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli e insieme alla sua umiltà Giobbe ricevette una intuizione spirituale le sue parole immortali nel versetto 5 lo descrivono il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora l'occhio mio ti ha visto qualcuno ha detto non devi stare seduto fuori al buio se tuttavia vuoi guardare le stelle scoprirai che l'oscurità è necessaria è necessaria molte grazie cristiane spesse volte sono impercettibili fino al momento della prova e poi brillano di grande splendore non dobbiamo disdegnare qualsiasi cosa ci capita dobbiamo avere pa Giobbe era ancora lì su un mucchio di spazzatura era lì mentre riceveva queste benedizioni spirituali era lì sul mucchio di spazzatura in mezzo alla spazzatura era ancora coperto di ulcere maligna dalla pianta dei piedi fino alla testa le mosche le mosche che di solito noi vediamo quando andiamo nei maneggi le mosche assalgono i cavalli le mosche assalivano Giobbe per nutrirsi dalla pelle di Giobbe la moglie lo detestava ancora tutti i suoi beni erano spariti i suoi figli erano morti ma era stato infinitamente benedetto perché perché Giobbe vedeva Dio come non l'aveva mai visto in quella situazione in un momento di prova così duro Giobbe vede Dio la mano di Dio l'opera di Dio e Dio perfezionò la fede di Giobbe come? con la sofferenza la sofferenza quindi quando anche noi soffriamo ci deve essere di grande conforto perché Dio vuole perfezionare la nostra fede e poi oltre le principali benedizioni spirituali vediamo le benedizioni secondarie di Giobbe erano quelle materiali infatti Dio lo ha benedetto con la prosperità materiale il testo biblico ci dice che diventò ancora più ricco di prima e in tutto l'Oriente poteva tutto potevano vedere il piacere di Dio in Giobbe certo Giobbe aveva più di prima dice capitolo 42 e aveva di nuovo tre figli tre figlie e sette figli di nuovo e amava questi bambini li amava con tutto il cuore dopo che ha avuto tutto quello che ha avuto ma non ha mai dimenticato la perdita dei primi dieci figli solo in cielo tutto sarà perfetto perché noi nella Bibbia leggiamo questa storia ma dietro c'è una sofferenza per aver perso dieci figli Dio lo ha ricolmato di altri dieci figli ma i dieci passati erano nel cuore di Giobbe perciò fratelli sorelle e amici la nostra fine supererà perfino quella terrena di Giobbe voi lo sapete noi cresceremo nella comprensione spirituale sì cresceremo quando tutto va bene che quando andrà tutto male noi cresceremo cresceremo sia il sole che nelle tenebre della vita finché non vedremo il suo volto e non riceveremo un'eredità incorruttibile senza macchia inalterabile esse è conservata in cielo per voi come dice l'Apostolo Pietro è per mezzo della sofferenza sopportata con costanza e fiducia che il Signore ci rende migliori che ci fa crescere che ci fa maturare è la sofferenza se qui non c'è c'è qualcuno che non ha sofferto non potrà capire quello che è la vita la formazione cristiana non è informazione cioè conoscenza teorica di dogmi di dottrine la formazione cristiana deriva dall'esperienza che si ottiene tramite la conoscenza e la pratica della volontà di Dio tramite la sottomissione a Dio e anche all'accettazione di ciò che Egli vuole per noi l'esperienza cristiana la formazione cristiana coinvolge l'ortodossia ma anche l'ortoprassia cioè tutte le sfere della vita a qualunque prezzo quando si soffre ed è la volontà di Dio tu diventi migliore se sopporti la sofferenza e arriviamo all'ultima indicazione e finiamo velocemente settima indicazione per vivere la pazienza aspettando il ritorno di Cristo ormai diciamo nel 2021 si paziente per assomigliargli appieno nel giorno della parousia il versetto finale la parte finale la frase conclusiva di Giacomo lega perfettamente il nostro tema sulla pazienza dice perché il Signore è pieno di compassione è misericordioso il Signore non è indifferente il Signore per chi lo conosce non è freddo non dobbiamo lasciarci persuadere da uomini o diavoli che a pensare male di Dio così come sta succedendo in questo mondo da dieci mesi a questa parte il Signore per chi lo conosce veramente è Dio e ha il cuore di un padre il nostro Padre Celeste ha un cuore come un padre umano diciamo così però ovviamente perfetto anche se permette alle tenebre di scendere su di noi Dio non può essere scortese con i suoi figli si prenderà sempre cura di noi il nostro Padre Celeste dice in Isaia 49 una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere poi aggiunge se anche se le madri dimenticassero io non dimenticherò te ecco io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi Giacomo ha coniato una nuova parola per dire che il Signore è pieno di compassione altri modi per dirlo potrebbe essere molto molto compassionevole pieno di compassione molto molto compassionevole oppure pieno di tenera compassione pieno di compassione è uguale compassione moltiplicata questo è il nostro Dio a questa compassione Giacomo unisce la misericordia l'ultima parte del versetto 11 Dio è pieno di compassione perché si prende cura di noi della nostra miseria Dio è pieno di misericordia perché perdona i nostri peccati è quello che vuole fare con tutti noi con quanti ancora non hanno fatto un passo di seguire Dio veramente con tutto il cuore Dio vuole perdonare i tuoi peccati per mezzo del sacrificio del suo figlio Gesù tutto ciò che dice a coloro che sono in difficoltà Dio è buono ricordate nel 2021 Dio è buono è buono in ogni tempo in ogni momento i tempi sono duri sì sono duri ti senti distaccato da Dio se la risposta è sì considera gli esempi di Giacomo la perseveranza dei profeti la perseveranza di Giobbe se persevereremo saremo benedetti perché ci avvicineremo a lui e lo vedremo come mai prima d'ora e la nostra fine sarà sicuramente beata sappiate questo e finisco sofferenza prova difficoltà afflizione che sia fisica emotiva economica qualsiasi circostanza difficile fa parte della vita siate pazienti siate pazienti un giorno migliore sta per arrivare siate pazienti sia in questa vita sta arrivando un giorno migliore e sicuramente nella vita a venire la via della pazienza numero 7 è stata tracciata seguiamola per l'anno 2021 se il Signore ci darà anche l'anno 2022 e così discorrendo seguiamo questa via della pazienza numero 7 ci dimentichiamo i passaggi andate a leggere Giacomo capitolo 5 dal versetto 7 a 11 e ci ricorderemo questi passi da fare e diventeremo assomiglieremo al nostro Dio che è pieno di compassione e misericordioso essere pazienti significa assomigliare appieno a colui che ha pazientato con noi fin dall'eternità questa è la parola del Signore che il Signore vuole dare a me ha già dato a me e vuole dare a tutti voi che siete qui a quelli che ci seguono da casa perché il Signore è buono è pieno di compassione è misericordioso Signore Dio nostro vogliamo alzarci in piedi mentre preghiamo ti siamo riconoscenti per come tu ti sei preso cura di noi nella nostra vita è vero ci lamentiamo quando soffriamo quando abbiamo un problema un ostacolo ma abbiamo capito l'importanza di pazientare abbiamo capito l'importanza di assomigliare a te essere pieni di compassione e misericordiosi Signore che questa via della pazienza possa essere la mia via la via di ogni mio fratello e sorella dei miei amici di coloro che ci seguono da casa Signore che in questo anno 2021 tu possa davvero dirigere i nostri passi a vivere una vita piena di pazienza non sappiamo cosa ci riserve il 2021 ma sappiamo la preparazione che tu ci hai voluto dare per affrontare il 2021 e ti siamo grati e ti prego Signore per quanti ancora non hanno conosciuto Cristo Gesù come Signore Salvatore voglia tu raggiungere queste persone questi cuori affinché possono comprendere di essere limitati senza speranza perduti nei peccati Signore che possono capire il messaggio di salvezza in Cristo Gesù non attraverso una religione ma in Cristo Gesù attraverso una relazione Signore tocca i nostri cuori sii glorificato attraverso la nostra vita attraverso la nostra pazienza che è come la tua Amen grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.